Siamo qui con i primi tre classificati della categoria Nitro Bike e troviamo in terza posizione un nostro modellista di vecchissima data con le moto in Puglia che insieme a Vito Ma è stato uno dei pilastri che è Vito Zizzi Vito, come sta andando la gara? Ma diciamo, poteva andare anche un po' meglio c'è un qualche problema di troppo però piano piano ci stiamo risolvendo Ma siamo fiduciosi per la finale? Ma abbastanza, diciamo perché l'ultima qualifica è andato bene ho avuto una spenda senza di fare la spenda avrei fatto un modo meglio Benissimo Passiamo a Francesco Cozzolino Com'è andata questa gara? Come prima gara non sono tanto in fondo perché è la prima volta che faccio una gara con un RG Evolution 3.1 non c'è male potrei ancora andare meglio però devo ancora conoscere meglio la moto anche se con l'aiuto di Cristian Sto andando molto bene e spero di fare un'ultima finale Come ti è sembrata la pista? Tu l'hai già girato su questa pista? Sì, sì già sono girato tempo indietro insomma tutto ok Benissimo Passiamo ad Antonio Vantaggio anche lui grande decano dell'automodellismo a livello nazionale nonché, sapete è l'anima del forum Moto1A5 che è praticamente la nostra strada per quanto si può parlare di motomodellismo in Italia come sta andando Antonio? Beh, sta andando bene la mia seconda pole position lavando le moto uso una nuova Power 701 gomme VMT motore picco sta andando bene mi sto divertendo con questi due amici qui Francesco e Vito e niente va bene spero di rivedervi spero di rivedervi in finale allora ok? grazie